Siamo a bordo della deserto mobile. Ci sta, no, deserto mobile. Della desert mobile, no, deserto mobile è più bello. Perché sembra la Batmobile. Esatto. E ho paura che, avendo messo questa specie di tetto, qualina il tuo fular mi sta rovinando. Scusa! Sarà tutto tipo ai 10 km orari per non farlo volare via, sinceramente speravo in qualcosa di un po' più. Veloce ma non velocissimo. Siete contento di questo sciopero? Lo faccio ragazzi. Pausa per andare lassù, per andare... Lassù, non ti vedo convinto. Fai tu le foto, Paolina. Ti fidi? No, per andare lassù e fare le foto panoramiche. Oh, ti alleni un po', non ti fa mica male. Mi fa malissimo, come non fa male? La fatica ha portato a questo. E anche ecco, i turisti che fanno casino. Qualcuno ha lasciato una borsa. Paolina sfrutta sempre le popolazioni locali per farsi aiutare con la cheffia. Ehi tu, caraci di bang bang. 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 Allora, la seconda tappa è... Ci hanno portato a vedere delle pitture rupestri a cui io non sono molto interessato. Adesso sto facendo una passeggiata e sto andando vicino ai cammelli. E' lì che mi punta e dice se fai un passo in più ti sputa in un occhio. E' importante di diradarsi nel deserto. E' di diradarsi nel deserto. Non poteva mancare la pausa shopping per spennarci. E' il momento di Paolina. Allora, questo è quello che mi ha spiegato Paolina riguardo all'ultima sosta. Qui è tutto dedicato a un re. Che qui c'è la faccia del tizio. Qui c'è il canyon del tizio. E lì c'è il bazar con il bar del tizio. E che dopo aver visitato tutte queste cose riguardo a questo tizio, la nostra escursione sarà finita. Ci possiamo bere un altro tè poi andiamo. Mi sono messo comodo. Mi sono messo comodo. Yeah. La schiena. Aia. Però è stato comodo. Mi sono messo comodo. Ok, ho chiesto all'autista di velocizzare un po'. Ricarga. No. 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 e lì c'è la nostra macchina che ha il sole da stamattina per cui sarà divertentissimo come entrarci dentro bel capello complimenti Cesca, non devi neanche andare dal parrucchiere vero no? sono bellissimo Dio mi fermicola tutto ripeti mi fermicola tutto ripetilo adesso mi fermicola tutto grazie man say hi Hassan che è il proprietario del campo come vi ho detto prima è preoccupato per la mia faccia vuole spruzzare ah Welcome! Anyone you welcome for Jordan Ahlan wa sahlan Welcome! Ahlan wa sahlan that you're welcome Ok, Hannah? Ahlan Ahlan Wasahlan Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan In Jordan Ahlan wasahlan Ahlan wasahlan Thank you very much mate You're welcome